il master in eventi d'arte è espressione di una cultura progettuale dell'evento che lo vede soggetto e non più solo oggetto da organizzare ideazione progettazione organizzazione sono questi i punti condivisi su cui il corso costruisce le diverse figure professionali destinati a comporre il team di lavoro a presto 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.